Arriva il primo rinvio a giudizio nell'inchiesta a Giettonopoli che indaga su ipotesi di abuso, truffa e falso dei consiglieri comunali che partecipavano alle commissioni di Palazzo Zanca. Il primo dei rinviati a giudizio è Andrea Consolo dell'Udc, la cui posizione è stata esaminata separatamente rispetto al troncone principale perché Consolo è parente del GUP Maria Vermiglio. Il giudice per l'udienza preliminare Andrea Fiorentino ha così disposto il rinvio a giudizio. A partire dal prossimo 28 settembre i giudici di primo grado stabiliranno se il consigliere dell'Udc è colpevole e innocente rispetto alle accuse mosse dalla procura di Messina. A difenderò l'avvocato Aurora Notarianni che ha fatto leva sulla prassi consolidata delle modalità con cui si svolgevano le commissioni di Palazzo Zanca. Sarà comunque davanti al tribunale collegiale che ora Consolo dovrà difendersi dalle accuse di abuso d'ufficio, truffa e falso contestata a vario titolo anche agli altri 22 consiglieri comunali per i quali il PM Diego Capece Minuto lo ha chiesto il rinvio a giudizio. Un'altra posizione stralciata è rinviata al prossimo 7 aprile quella che riguarda il consigliere comunale Pietro Iannello. In questo caso lo stralcio è stato causato esclusivamente per una mancata notifica al suo difensore. Domani invece si tornerà in aula davanti al gruppo vermiglio per quella che dovrebbe essere la giornata decisiva per tutti gli altri indagati.